Oh eccoci qua, tutto bene raga? Come va? Che si dice? Allora, siamo a Midnight Suns raga, Midnight Suns Non mi ricordo che parte siamo, mi sono perso Comunque, detto questo abbiamo un bel po' di cose da fare, quindi andiamo e vediamo Vabbè lui è il parte che sta sempre al passo Qualcosa stanza e starca junto a te, fa fa fare le mie miei instinti di animali Ono significa che il amore dell'amore è incredibile E' un po' di più Hunter, tu tuo azione Tony Stark e Doctor Strange Club è pronto per rilassare Mi hai fatto un'estero e credo che i sensazioni sono Non scelte, un poche, e magari troppo Ok... Situazione c'è un punto interrogativo da fare se magari esco ecco sentiamo che sai da dire per esempio il porto di capelli in quel modo ah subito accetto cerchiamo qualcos'altro che no sempre per i credit raga sempre assolutamente questo nerina bella ecco e gironzo a nerino superiorità aerea mi serviva però stessa carica magari mi faresti un grande favore comunque molti hanno avuto problemi di questi caricamenti di spedizione degli sold uomini degli eroi io non ho mai avuto sto problema anche se c'è da dire che quando è iniziato a fare una pace di aggiornamento mi largava una bestia ho evitato poi di giocarlo insomma tanta roba andiamo un po' di personaggi so poi wolverine Io ti faccio un favore, solo questo una volta. Humm, fortunato che mi ha avuto in un buon modo. Stai da trac... Stai da prendere la scuola di DEMON CHILD'ARMORE. Literalmente e facciolamente. Stai fuori da me quando stai prendendo. Nessuno può dire ciò che i miei calci saranno. Ha ha ha, bellissima. Che cosa è questo? Un danza vecchio? Stai sentendo bene? Sono contento per mandare loro in spirito. E' buono che li mando in missione. Allora, a parte che non ho controllato questo. E quindi sono stupido pure. Madonna, Nerino. Eh, ho sapevo che facevi danni, eh. Lo sapevo, guarda, antipatica. Che cosa ha fatto cadere? Tutto. Nerino. Oh, antipatica. Va bene, allora. Ok, come sempre puoi trovare una copia. Ok. No, di nuovo, dai. Volevo vedere un'altra cosa. Volevo vedere. Ah, ok. No, solo quello. Volevo fare un'altra cosa. Fuma Anatomy. Dark. Uh, uh. Prendo il colo di Iron Man. Andiamo con calma. Eh, se faccio con lei, arriviamo a quattro. Certo. Facciamolo. E' stato migliore delle tue prestazioni. Guarda quant'è folle Nerino. Che stai facendo? E che fai? E che fai? Monella. Ok. Uff. Ora vedo cosa c'è tutto. Cosa c'è tutto. Ah, so questi momenti di freezing. Proprio che resti a posto. Intanto aria passi. E lo sedi. Cioè... I bars infigono danni ma... Ok. Maggiori. Ehm... Terapia assolutamente a... Madonna quanti siete inguaiati. Ottieni vulnerabilità per... Vedi... Non conviene. Ehm... Mi serve te che ti... Eh, ma mi sembra che non ho... Non ho credito né materiale. O si, ho i materiali, qualcosa. Cosa. Nuo e migliorato. Eh, ma io credo che non ho abbastanza credi... Soldi o punti. Si, ce l'ho. Ho qualcosa sulla difesa. Madonna. Cento. Mizzica. Wa... Ah, può... E beh, giustamente... Bello. Pure cento due di recupero salute. Ottimo. Eh, avete visto quanto sto potenziando? Uh, bello Iron Man. Wow, vabbè cinquant... Vabbè, posto. Peccato che per gli altri non posso fare nulla. Eh, questo faceva ottantotto, faceva male. Vabbè, pazienza e... Vabbè, devo potenziare quei tre ancora. Vabbè. Però sono contento. Bene. Ehm, c'è una cosa qui. Prendi. Andiamo qua, ragazzi. Andiamo avanti con la storia. Hunter, vai a vedere la forza. Abbiamo fatto qualcosa... Come ho sperato, Ci sono due. I'm a mani... Di più oltre. 10 secondi. Perchè, es siguiente. Amai. Un elemento... Un elemento che stronzo. Amai. Un elemento... Un elemento... Un elemento. Un elemento... Un elemento... Un elemento che... I was hearing a lot of eyes in there, Doc. I thought this was a wee scenario going on here. Yes, Tony provided some assistance, of course. Particularly with the name. Yeah, well forgive me if I'm not used to having my combat suits try and take a bite out of me while I calibrate them. It is an impressive, if not pungent, creation. Speaking of, I suggest you make use of the suit while the components are still fresh. That should maximize the protections against that infernal barrier. Understood, Doc. I'm quite pleased with these results. Oh, Hunter, what is that hideous thing you're wearing? Hideous? That's harsh, even for you, Sarah. Oh, smells. And what is that leathery material it's made of? It looks like it's made from the skin of... Rabid demon dog? Pretty much terrifies me just looking at it. But if it can get Hunter here through that demonic barrier keeping us out of Banner's lab, I can deal with my existential terror over Strange's creepy meat suit. barrier? I thought we discussed this. We did, Sarah. We just decided to go another way. Hunter, we need to talk, and we need to talk now. So, I see you, Stark, Magic, and Niko are heading to Banner's lab despite my objections. We are? But I said no, and I said it loud and clear. Well, this is what we have decided to do. Best accepted. That's not like any of you are giving me much of a choice. Sarah, I am sorry that this happened this way. You intentionally ignored my wishes. We meant you no disrespect, but we all believe this is the right course of action. I know you have heard this before, but you need to trust us. I can't stop you, can I? I can't stop you, can I? No, you cannot. Fine, go back to the lab and get Tony's toy. Thank you, Sarah. While you're there, if you happen to encounter Wanda, don't make the mistake of going easy on her. I assure you, she won't hold back on you. I still believe there is hope for her. False hope. Listen, I feel Niko and Magic's pain. I do, but we both know purifying corruption is impossible. Wanda is gone. Your only job is to retrieve the accelerator and come back safe. Do not sacrifice yourself for someone who is beyond saving. You hear me? Well, at least that armor is as sturdy as it is macabre. It should give you the protection you need. Good luck out there. I hope Tony's accelerator is worth it. Good girl, Charlie. Good girl, Charlie. Oh, Hunter. That suit. Oh, Hunter. That suit. Oh, Hunter. Oh, Hunter. It's almost time to game. Let's prep. No, I want to see if it says... Not a lot of people can pull off the whole demon skin look. But you? You're dominating it. I want to see if it says... My senses are going nuts. Mind stepping back a little? Ha 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 ha. The smell is so strong that it says, please. Okay, we don't have much time, so I want to run down what you need to do to pull off this purification spell. First and foremost, you gotta say the words to the incantation freaking precisely. Like, every single syllable needs to be on point. What if I stumble over them? Uh, something bad might happen? Define bad. Oh, I don't know. Like accidentally summoning a huge horde of zombie penguins to descend on New York? But that's why you memorize the words to the incantation. You do remember them, right? Okay. ... La foto un attimo alle Un secondo non si sa mai Questo credo che può servire Aspetta fermi tutti Scusatemi ragazzi Ho dovuto stoppare ma per un motivo Ho fatto la foto ai cosi che mi ha Si perchè allora E' un rischio del gioco Però io sono sicuro perchè chi gioca A questi tipologie di giochi Come si faceva quando io Giochi la playstation 2, playstation 3 Compagnia bella ma anche giochi picci vecchi Che quando ci stavano delle cose da memorizzare Da scrivere si faceva E infatti ho salvato Le due parole Una dopo e l'altra successiva Perchè se me lo chiedono Devo ricordarmele Ma è stesso il gioco che te lo sta dicendo Ricordatele e quindi Certo che lo ricordo Dai vorrei farti ridere un po' Vabbè volevo scherzare So come on Let me hear you say them Ego sum tenebris Et veniunt in domum suam ubet dominus And the last line Ecco e dovrebbe essere Aspetta Domini Domu Aspetta domun Perchè Ci sono due diversi Ah perchè Ah vedi come ti frega Pre e prae Eccolo qua Vedi che ti avrebbe fatto La scelta opzionale Lo sapevo Lo sapevo E me lo sentivo A parte che è latino Perchè non è pre E' Prae Cepta Quindi E' Pricepta Ah eh si legge Eoi Domun Domini Precepta Eor Hey You remembered All your lines Not sure you would Maybe we have a shot At saving Wanda After all Okay There are a few more Important details We need to go over First off Don't say the incantation Before you see Wanda You have to wait Until she's in sight For it to work Okay Got it In praticamente Quando la combattere Quando you do start to say She should start to become Disorientate You're gonna have to Ripetit Three times Before she's gonna be Subdued Enough for you To drain The corruption Quindi l'abbiamo sconfigge Per fargli fare Una volta il ca Un po' come Venom Perché non abbiamo sconfitto Venom Che poi credo che Ritornerà comunque Intense Però sarebbe figo Che forse lo posso fare Anche con Venom E farlo anche con gli altri I am unfortunately All too familiar With dark energy Like it or not It is in my blood I know how much You like to Avoid using it Which is why I wanted to Double check Because this is not Just Lilith's corruption You're gonna be Exposing yourself to But You're gonna be using Freaking chaos magic To purify it The only other person In recorded history To do what you're About to do Didn't make it I do not need To be reminded of that Right Sorry I want Wanda back More than anything I just Don't want you to fall Trying to get her back I've already lost enough People I care about You do not have to worry About losing me Nico I will be fine You better be So This is it Huh Just wanted to say I believe in you Hunter You got this Is that a bella conversazione Mi è piaciuta Now Bring our girl home Abbiamo fatto bene A parlare con lei Oh and Hunter If for some reason The smell doesn't work Please Don't hurt her No matter what happens Remember Wanda is still in there Somewhere Ok Volevo sapere se c'è Qualcos'altro da fare Prima di parlare Ufficialmente con lei Credo che dobbiamo Farsi sia della campagna Direttamente con quella Basta Con state legame Si Orribile You have to ask I know I look hideous I was thinking more along the lines of Ridiculous Not unlike Strange's plan I thought you wanted us to find a way to break back into Banner's lab I do I just think wearing a hellhound skin to bypass a demonic barrier Is something you'd only see in one of Nico's zombie movies I thought that would be a reason you would like the plan What? Because Nico likes to make me watch bad movies with her? Movie nights are Nico's thing Besides I prefer plans that aren't based on fiction But if on the off chance you happen to breach the barrier and make your way in Maybe I can find a way to help you out What do you mean? I don't give a damn about the accelerator But I do give a damn about Wanda That's why we're wearing that monstrosity gets us closer to her I will do everything in my power to help get her back Ora vattene da qui And don't come back until you bring back my friend Be careful out there Hunter I want both you and Wanda back safe Just like looking in a funhouse mirror I wouldn't be caught dead in it Beh che ne sono se la voglio indossare effettivamente Fammi indovinare Nico non è disponibile Ah ma a me non mi interessa di Nico Puoi fare la missione Ah è proprio la missione di storia Figurati Eh però è vulnerabile raga Dobbiamo stare attenti eh Può rischiare Eh è un po' ferita effettivamente O se no evitiamo Ci facciamo una missione normale Sì tanto l'ho detto Facciamo così una missione normale Ce la facciamo Lo stride non mi ferie troppo Tu mi servi Tu mi servi dopo Oh vedi perché l'è ferita È una ferita lieve Dovebbe ripararsi Almeno per il giorno dopo Quindi andiamo con Anzi ti ho potenziato Usiamo te Anzi Anzi tanto mo' che è carica Approfitto e arrivo Sì tanto mo' ci mette sempre quel tempo a caricare Ragazzi lo sapete Tanto poi faranno una pace di aggiornamento Quindi anche quando Se la faranno E quando la faranno Tanto io sono avanti con la lore Con la campagna Anzi Eccomi qua, fatevi indovinare che ancora non si è caricato, ti pareva, basta un secondo mi sono solo spostato, io ho detto aspetto che si carica, intanto dovrebbe caricare direttamente la missione, Ghost Rider mi serve perché per il momento stiamo facendo una missione che non ha chi fa con Ghost Rider, però vogliamo salvare Wanda, quindi un motivo in più di andare a cercare di recuperarla, se ce la facciamo ragazzi abbiamo un nuovo personaggio, pure OP, perché Wanda non scherza, è una bella strega, è ignorante, cosa molto interessante, sono curioso di vedere i suoi costumi e roba simile, sia quello di pazze sia che non mi ricordo quelli che aveva nel DLC del premium, poi vediamo. Certamente è tanta bella roba, sì perché avere anche un altro personaggio extra non dispiace, poi l'ultimo rimane Hulk, spero se riusciamo a convertire lei subito ora in questa missione, non in questa, no in questa, nel prossimo gameplay perché ora ci facciamo una missione giusto per curare Magic, così Magic la prossima volta sta più tranquilla, non sarà coso lieve, facciamo la missione, useremo Captain Marvel insieme, sì perché là è pericoloso, raga è pericolosissimo, e andiamo avanti, andiamo avanti con la lore, anzi sarà pure interessante perché la spostiamo direttamente nei tipi emo, quindi questa cosa sarà molto interessante, ci può dare un supporto di magia eccetera. è alla faccia la custode perché riusciamo a convertirla, quindi è al diavolo tutti. Custode abbiamo dovuto mentire per forza perché io non so se non mentendo ci avrebbe già dato problemi, perché questa cosa io devo capire come funziona, perché quello che sto facendo è un percorso lineare corretto o lo sto facendo giusto per passare il tempo, perché io questo voglio capire, voglio capire se effettivamente sto facendo il modo, la cosa corretta di narrazione in maniera lineare, perché comunque mo abbiamo il costume da demone, abbiamo sbloccato coi e dai che gli sbagli del cavolo, tanto la missione con la tuta nuova, fresca per affrontare, perché abbiamo affrontato venamo con la tuta. No, non l'abbiamo anche affrontato in realtà, è scappato e basta, quindi ancora non l'abbiamo affrontato quel costume. L'abbiamo solo steso con la campana, però può essere che ritorna di nuovo e non prima o poi ritornerà perché non credo che, perché non l'abbiamo sconfitto, io credo che dobbiamo cercare il modo di risorgiocare tutti, togliere tutte quelle da maledizione e se riusciamo a togliere anche a Venom o Cybertooth, siamo a cavallo, perché non so se poi ci saranno missioni dove se avremo gli infettati praticamente possiamo, capi? Perché se è così e tanta roba, mi spiego, potrebbe essere interessante perché se rivediamo gli infettati e c'è sta la possibilità di tramite la cantilena, la canzone, c'è questa poesia, questa magia, di riconvertirli, ce li togliamo, un po' come con XCOM World of Showsen, che tu sconfiggi palesemente e definitivamente i, come si chiamano, i prescelti, qua la stessa cosa, magari togliendoli dal potere, sotto il controllo di Lilith, praticamente ce li togliamo definitivamente dai piedi, e sono curioso se c'è una cinematica dedicata, ma credo proprio di sì, soprattutto sono curioso di vedere Venom normale che si incacchia e gli girano i coglioni e se ne va, o che più che ci ringrazia va a romper cacchia gli altri demoni, ma poi se ne scappa salutando e dirà, ah Spider-Man la prossima volta ti mangerò il cervello, ok, obiettivo, ah che rare, no proteggi, no proteggi i cervello, appunto, un potenzialmente valutante source di nuova intel sulle movimenti, io non controllo il situazione, io sono un wall, io posso install Carol's script sulle consoli, ci farà il lavoro difficile per noi credo che possiamo mantenere Hydra da spaventare il server prima vedo cosa stai parlando abbiamo bisogno di ristare la nostra capacità sicuramente, perché non? ora abbiamo bisogno di ristare la nostra capacità ok, con i punti interrogativi ci siamo tolti un bel problema facciamo ma volevo battere a beh a bolletta 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 Magari, un 60%. E quando mai? Dobbiamo togliere in mezzo quello. Però prima abbiamo fatto già fuori quelle bestie, quelle più pericolose. Lo siamo tolto dai piedi, ragazzi. Vabbè, un soldato apposta. Sì, sì, il problema sei tu però. Questo non deve prendere tanto tempo. Io seguo il tuo leader. Non tutti devono essere bellissimi. Per forza, ragazzi. Per forza, ragazzi. Vengeance. Per forza, ragazzi. Per forza, ragazzi. Quei due ce li dobbiamo sbarazzare Questo riceve danni però dobbiamo usare la torre e usiamo questo Quindi 1,2 e 3 Iron Man mi servi moment... no anzi Ghost Rider Proprio te Usiamo la provocazione contro questa merda Ecco così nessuno non attacca l'oggetto Era un modo per sto attraverso Ero un modo per sto attraverso Ero un modo per sto attraverso Porca miseria non ci volevo Ok 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 Ero uno Ok Ok Vediamo un po' Aia Ok Eh perchè ho messo lo scudo Per questo mi sono troppo Lui le sta prendendo eh Ok Ok Fatto un po' male con Ghost Rider eh E' lui che sta facendo male tanto non si può manco curare Perchè quella sua arma è da curare Ok Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere La plan si sembra bene Non ci posso credere Non ci potre Non ci posso credere Ero una risposta Ma Non ci posso credere Ok Ci siamo tolti già il pensiero di questo Poi Ah, penso di eliminare i nemici Vabbè, è andata Vabbè, è andata Però volevo fare più kill Però è andata, è andata, è andata lo stesso Va bene, approvo Approvo la cosa Poteva andare di meglio Però va bene, va bene Anzi, lo apprezzo Vabbè, è il suo personaggio 66 o però buono Vediamo un po', vediamo un po' il prossimo Allora, mo' vediamo in serata che cosa si deve fare Se abbiamo la... Non quelli emo, ma mi serve la missione A parte perché avevamo appunto Magic ferita e non volevo Fare la missione principale con un personaggio ferito Uno Due Voglio sbloccare Anzi, è una cosa di Captain America lì Voglio fare un'altra ricerca Perché toppe ricerche erano arretrate E Un motivo in più che stasera Se ci sta il coso, il club della Come si chiama E da un po' che... Perché ho saltato perché è apparso la missione principale della storia Mentre dovevo andare a fare Il coso del... Come si chiama Quello là con Spider-Man e Robby L'ufficina Quindi dovevo fare quello Forse stasera si farà Così parlo con Iron Man Vediamo se riesce a... Riconvince a ritornare Spider-Man e coso Robby, per forza perché sono un po' inguagliati Quello in quella... In quel club Tone ha sbagliato di come comportarsi Ha preso troppo l'iniziativa a modo suo Senza... E non se fa così Non se fa Vediamo, vediamo come si evolve la cosa Intanto non ho controllato se mia mamma ha cucinato Se non ha cucinato devo andare a comprare un po' di cose Cosa? Un attacco di tosse Bene Proprio di che bello l'ambientazione Però è fatta bene Mi piace troppo l'ambientazione di sto gioco Certamente è piatto perché non ci sono... O chissà che cosa Cioè è piatto in senso che non è che ci sono animali O tante altre cose È un'ambientazione Nella media standard Anzi forse qualcosina in più Essendo che è molto accurata in aree I piccolari Scusate Un attacco di sbagliato Uh trovato Corso dell'ufficina contone Lo sapevo Lo sapevo Per questo Ho preferito Ma scusami Perché è questo qui Se poi ce l'ho addosso? Ah forse perché Nelle skin Automate che ho usato E ora continuiamo Vediamo un po' Oh? You heading to shop class? I might Swing on by So is that a yes Or Yeah I'll be there This place makes my skin crawl We could do something else I meant the Abbey The error always feels wrong here Makes my hair stand on end It is part of the Abbey It is part of the Abbey's charm Wouldn't call that charming I meant the actual charm Built into the Abbey It encourages you to leave How long until that stops For a person It is part of the Abbey After a few years Well I don't plan On being around that long Lol Allora Vorrei darti Una bottiglia di birra Analcolica Però è una tristezza Però il coating di Blue Con Wolverine È una figata Però lui non legge Però secondo me È un bel Ma un bel pugnale Che se ne fa Sarah never told me You were this fun Eh se fosse stato Un vero drink Like la boss Una domanda Ma Ah ecco Lui non parla proprio Ma triste Chi è che è il punto Esclamativo Vedi che c'è Ghosty Ah vedi che ci sta Il punto interrogativo Di Ghosty Dai Sì ti chiamato Ghosty La suit È un po' troppo È un po' brutto Ma è proprio Dice qualcosa 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 Sì è vero Non ho capito Perché Shop class Supposed to meet Tonight So just the two Of us Actually when I Asked Parker He mentioned You stopped by Said he could Convince Robbie If I could get You to show I don't know I'm sure everyone Has something to say Maybe But I already said too much I have to fix this Oh dai facciamolo Oh dai facciamolo È un peccato Perché affrontiamo Una tosta situazione Perché è triste Quello che sta succedendo So what did you want So what did you want That's what assholes Pouring over the guts Of a microprocessor That's all I want here To make things With friends As long as that's still An option That's the whole idea Behind this Ok Here's how we make This work Tony Stark CEO Is banned from Shop Class But making things Tony The guy we're talking Right now He can stay That's more than fair Quindi Richie Togliamo Quello lì Che vuole Fare Il tutto Del tutto Perfetto Adesso contento Ok That's over With Feuding with Tony Stark Is not an achievement I care to unlock So How about we make something new Another day for retooling We have a few more ideas In the backlog If you want to check them out I finally have a use For the components You handed me You ready to put this one to bed Non ancora Just a moment No rush Vorrei parlare più con questi Well that was less painful Than expected Thanks for coming Hunter We all needed to Clear the air Took Tony long enough To figure out Shop Class Huh I thought his suit Had the thicker skull You seem happier than I expected Of course I'm happy Everything's back to normal That's all we wanted I'll let you get to it Parker can't wait To dive in Ecco qui avevo sbagliato Perché la volta scorsa Parlavo direttamente con Peter Invece dovevo andare a parlare Prima con Robby E poi con Certo Vediamo cosa succede Dai I am ready Ecco mo tutti insieme Mo tutti insieme Prima che aveva fatto tutto Lui e noi eravamo seduti là Bellissimo Che cosa triste Ma do 300 Subito Mamma 300 Questo è interessante Lo posso potenziare Sapete che ti metto Parker's creative drive Is amazing Seeing how he tackles a problem Gives me ideas of my own Menomah And Robby has the right intuition When it comes to putting These prototypes together I thought he was being over cautious But that's a crafter's care Wish I'd seen it earlier Ebbè tu fai tutto da solo Look I don't want to brag But I think this is our Best work Yeah I know Blah blah Teamwork Blah 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 But Still Impressivo What we can do When we all work together C'è sta Sono contento Mettendo lui Già sta sulla macchina C'è sta Sono contento Perché abbiamo risolto La situazione Con 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 Il gruppo Soprattutto Poi se arriva pure Bruce Banner Ancora meglio Ma credo che sono tutti A nanna Palesemente Sì Ma no Tutti a nanna Sono Fammi vedere Se si può Sono contento Sono contento Perché stiamo Stiamo facendo cose L'importanza è questo Che miglioriamo La pazia Miglioriamo Cose E Sblocchiamo Ricerche Parentesi Otteniamo materiale Per potenziare Per potenziare le carte E compagnia bella L'obbligo L'obbligo Anzi Stiamo potenziando pure Quelle là Più importanti Epiche Quindi Tanta roba Oh Ferita Ferita Guarita Guarita Tutte e tre Figurati Quanta roba Ora possiamo Stoppare E pensare Alla missione Principale Messaggio pure privato Di Wolverine Abbiamo Tanta Guarda Quanta roba Bene ragazzi Qui del 38 Passo E chiudo Bella raga E chiudo